Cosa ci possiamo aspettare, che cosa si aspetta lei dal Padiglione Italia e da questa edizione dell'Expo? Personalmente mi aspetto che si realizzi una proporzione che è stata creata da un amico che collabora con noi. La proporzione dice che la Silicon Valley sta all'informatica come l'Italia sta al cibo e quindi l'Italia può diventare e ridiventare la capitale mondiale dell'innovazione gastronomica che non è solo il cibo più buono ma è il cibo più sano, il cibo più sicuro e il cibo più solidale.